Lo staff della Plaza Iscla augura buone feste e un felice 2018. Dopo la paura è l'ora degli interrogativi. Cosa ha spinto il trentenne che ha seminato il terrore in piazza Garibaldi a lanciarsi con l'auto in mezzo alla folla? I pareri e i commenti, le ipotesi e inevitabili si susseguono da sabato pomeriggio, soppiantati solo in parte da quelli sulla nevicata delle ultime ore e sulle sue conseguenze. L'uomo, ora accusato di tentato omicidio, ha travolto tre persone prima che la sua Toyota Yaris si schiantasse contro il portico di una palazzina di via Caimi. E mentre migliorano le condizioni della donna investita davanti al pattinaggio e finita in rianimazione in prognosi riservata, in chi è stato testimone di quegli istanti terribili si rafforza la convinzione che sia davvero sfiorata la tragedia. Le nostre protezioni hanno fatto il loro dovere, hanno tenuto per fortuna e effettivamente poteva succedere il peggio. Mi dispiace ovviamente per la signora che è stata coinvolta, che so che sta meglio. Dove si trovava esattamente questa signora? E direi qua alla mia sinistra, come potete vedere forse era appoggiata qua, forse il marito e i figli stavano pattinando dentro, lei era appoggiata e è stata coinvolta. C'era quest'auto che è entrata da là, davanti al palazzo Martinengo, e praticamente andava veloce, un po' di spavento c'è stato, perché non sapevi come muoverti, non sapevi dove andare, se magari girava a destra o a sinistra. Un po' di paura ce l'avevi. Ho visto che è arrivata una macchina così veloce, se cacciate così il mio bancarale è tutto, è scappato. Tutto bene, c'è magari forse un po' meno gente, però noi siamo molto tranquilli, anche perché pensiamo sia stato un caso sporadico e circoscritto.